FONDO NATURA SPECIFIC RICCI Avvolgi i tuoi capelli ricci, mossi e ondulati, con la delicatezza dei migliori prodotti bio. Rendili ancora più morbidi, elastici e ben definiti. Con FONDO NATURA SPECIFIC RICCI, realizzati artigianalmente in Italia, con i più pregiati ingredienti naturali. Latte detergente disciplinante Maschera disciplinante per capelli ricci Curl Defining Mousse Raviva Ricci Con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di cosmetici naturali, SPECIFIC RICCI FONDO NATURA è utilizzato dai migliori professionisti. I prodotti per capelli ricci FONDO NATURA li puoi acquistare online dal nostro sito capellissimo.com Nel nostro sito troverai anche il blog dei capelli ricci. Iscriviti al nostro canale YouTube E viene a trovarci sul nostro sito capellissimo.com E' I 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